E allora ragazzi ci siamo, 12 minutes come vedete da questo orologio che scorre Siamo di fronte a un thriller interattivo su un uomo intrappolato in un loop temporale con James McAvoy, Daisy Ridley e William Dafoe Quindi nomi anche importanti di Hollywood Prima di cominciare mi raccomando per la produzione e iscrizione Per supportare questa serie questo bel canale si parte Ah, vediamo un po' cosa andremo a fare in questo gioco Quali disgrazie andremo ad affrontare Dunque, dunque, dunque Vediamo se partirà mai, ovviamente Ecco, la lancetta sta per scoccare la dodicesima ora Siamo a mezzanotte o a mezzogiorno Eccoci qua, vediamo cosa succederà Se succederà qualcosa, ovviamente Eeeeh Ci siamo, ci siamo Ultimo giro di orologio Eccola qua, eccola qua L'inizio è un po' lento, però vabbè Vabbè, continua option Ok, in un attimo vediamo le opzioni Dunque, questa la mettiamo qua Keep changes, ok Ok, la qualità la mettiamo su ultra Il linguaggio lo cambiamo su italiano E avanzate Ok, e possiamo andare indietro Continuiamo, ovvero cominciamo una nuova partita Via! Si parte ragazzi Allora, siamo all'interno Premi per spostare Ok Molto Clicca su un oggetto interattivo Per utilizzarlo Camminiamo Nel corridoio Qua è tre o tre porte Chiusa, chiusa Porta d'ingresso Chiusa Quindi questa è casa nostra E' chiusa Ho dimenticato le chiavi Che secondo me saranno all'interno della pianta Si ancora Infatti Lo sapevo già Prendiamo qua Tasso finto Sposta il cursore sulla parte in alto Per aprire l'inventario Ok Clicca su un oggetto dell'inventario Per utilizzarlo Perfetto Eccola qua E subito Si parte Attenzione E adesso si che possiamo aprire No? E daglie E daglie un po' Vedremo Poco ragazzi Faccio le chiavi Ma scusa imbecille Hai le chiavi Hai le chiavi Usale Usale Maestro Mamma mia Tutti io devo fare Ma porca miseria Vedremo proprio un assaggio ragazzi E poi Nei prossimi giorni Ci tufferemo all'interno di questo Che era uno dei giochi più attesi di agosto Ok Siamo a casa nostra adesso Bene Nostra moglie Si sta preparando Si sta facendo bella Probabilmente Salve Ci saluta Ottimo Tu Ok Ti faccio sapere quando Siamo pronti Accende la luce Dunque Esploriamo un attimo L'aria circostante Qua vediamo Salotto Diciamo Cucina Quello che è Zona Pranzo Qua c'è il bagnetto Poi Qui abbiamo Qui abbiamo La camera da letto E qui Abbiamo Una porta Che ci fa Vedere cosa c'è qua Un guardaroba Ok Quindi vuole mangiare il dolce Iniziamo subito Prendiamo il dolce Sarà dentro il frigo Immagino Ok Uno Due Chiudi Accendiamo anche un po' di musica Ma sì Ma sì Ma che c'è 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 Zitto Mannaggia Ok La musica è accesa Posso metterla Aspetti Ok Uno Due Moglie Siamo pronti a mangiare Venghi Venghi Posso Come Come si fa Dille che è il momento Bravo Oh E mangiamo Sto dolce Va Ma come Scusi Ma Dove va Ma che ha fatto Ma L'ha scossa pure Ma mi perdoni Che sta facendo Ma cos'è cambiato Esattamente E mo che sta a prendere Beh possiamo mangiare Sto dolce Scusi Ah prenderei I bicchieri Perfetto Io intanto mi accomodo Allora eh L'aspetto qua Aspetti Va bene Ah ci ha riempito L'acqua Che tesoro Che tesoro Ma figurati Ma bravo Il lume di candela Bravo Molto romantico Brava Ci stava E allora Mangiamo No Mangiamo Posso mangiare Sì grazie Sembra Sembra Essere apprezzato Il dolce Non c'è solo il dolce Non c'è solo il dolce Attenzione Oh regalino Attenzione Lo prendiamo subito Che cos'è Non lo vedo Vestita bebe In che senso Scusi Wow Subito colpa di scena E si va in Messico Signore Via Si vola Dai Dile ciò che pensi Perché Dahlia Perché Dahlia Ma io sento dei Eh parliamo Andrà tutto bene Non hai idea di come si cresce con figlio Ma andrà tutto bene Immagino Ah decent Ma c'è qualcuno Mi sa C'è l'ascensore Ma stanno No scusate C'è l'ascensore La porta Ma in che senso La polizia Che succede A white man Oh Attenzione C'è dell'aggressività Qui Oh signore Ma come Scusi Ma che abbiamo fatto No Ma che succede Eh sto provando Ma non mi ha fatto Di niente Ecco 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 Che sta succedendo Bravo 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 I don't know I don't know With you in a minute Don't have to handcuff me We can talk this out Hey listen Che sta succedendo Si trovo Ti avevo avvertito Che in che senso Mi si è buggato Attenzione Mi si bugga il personaggio Mi alzo Mi si bugga Bene Si comincia Benissimo Ecco si è sbuggato Oh Scusi Che aggressività Immotivata E siamo tornati Alla sera prima Ragazzi Come il film Con Bill Murray Il giorno della marmotta Quindi Ritorneremo Fino a quando Non aggiusteremo Le cose Perfetto Bellissimo Mi piace Quindi Se è come il film Ragazzi Dobbiamo iniziare Ad esplorare Tutta La scena Tutti i vari oggetti Che sono presenti All'interno del gioco Però Metto pausa Perché questo Lo vedremo Domani Quindi domani Un'altra puntata Ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere la vostra So che è molto breve Però Purtroppo C'è poco tempo Un bel like Con la visione In iscrizione Per sopportare la serie Il canale Io come sempre Ragazzi Vi voglio bene Ci vediamo domani Con di nuovo I fantastici video Ciao